Amici, amiche e amici rossoneri, che bel Natale, poi vi farò gli auguri, che bello, respiriamo con i polmoni aperti, è stata una partita straordinaria, commovente, siamo stati eroici, è stata una vittoria meritatissima, piena di colpi di scena, anche a tratti di ingiustizie, e devo dire che sorrido tutto, e vi immagino lì, dietro lo schermo, dietro uno smartphone, dietro un pc, sorridenti, fieri, orgogliosi di questa squadra, primi in classifica, primi in classifica, guardiamo e riguardiamo la classifica, siamo lì, primi, primi meritatamente, siamo la squadra più squadra di questo campionato, Io non ho, non ho molta voce, esultanza straordinaria, bellissima, fantastica, ragazzi siamo stati a un centimetro dalla delusione, e poi abbiamo, abbiamo raggiunto, con i denti, buttando il cuore oltre l'ostacolo, questa vittoria, e il primato in classifica, al termine di un anno, calcisticamente, parlando per il Milan, straordinario. Vi ricordo di lasciare il like, ragazzi, se siete anche voi contenti e orgogliosi di questo Milan, like qui sotto, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi qui, sulla banderina rossonera, per non perdere nulla. Sul Milan vi treremo compagnia, vi aggiorneremo, vi informeremo, faremo delle dirette anche nel periodo natalizio. Ragazzi, che bello, che bello, che bello, sono contentissimo, sono strafelice, me lo merito, ve lo meritate, ce lo meritiamo, tutti, e non ho vergogna a esultare, a gioire. Adesso i gufi, che ci aspettavano al varco, tornano indietro, con la coda tra le gambe, anche se non sono, i gufi non hanno la coda tra le gambe, e dicono, vabbè, esultate, capirai. No, no, noi esultiamo, non abbiamo vergogna a esultare, a gioire, a goderci questo momento, dobbiamo farlo, ripensando anche agli ultimi anni faticosi, di sofferenze, ora ce la dobbiamo godere, sperando che arriviamo più in là possibile, dove meriteremo. Sicuramente oggi meritiamo di essere lì, e forse meriteremo anche di avere qualche punto in più, viste le tante assenze, gli infortuni, è qualcosa di bellissimo, sarà un bellissimo Natale, dal punto di vista del Milan, del calcio, spero per tutti, anche per extracampo, che porti serenità. Sicuramente chi al Milan ha nel cuore affronterà questo Natale colpetto in fuori, è orgoglioso di questa squadra, davvero, io sono felicissimo, sono stra, stra, stra felice, ce lo meritiamo, ce lo meritiamo e ce lo meritiamo. Eroici perché mancavano tantissimi giocatori, abbiamo allungato, intanto la seconda squadra di Milano era lì, che aspettava sorpasso, e alla fine l'abbiamo rimandato indietro, facendo vedere chi comanda qui. La Roma è terza, abbiamo sette punti in più della Roma, il Sassuolo è quarto, abbiamo otto punti in più del Sassuolo, in Napoli è quinto, abbiamo nove punti in più della Napoli e dieci, 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 uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci punti in più della Juventus. Napoli e Juve hanno una partita in meno, però non la possono vincere tutti e due, se la pareggiano meglio ancora. E poi c'è l'Atalanta che ha meno dodici con una partita da recuperare, se la vince va meno nove. Classifica splendida, splendida, splendida come siamo noi, cuori rossoneri. Le pagelle, le pagelle, Donna Rumma che ci fa spaventare quando viene poi massaggiato, temiamo l'infortunio, resta in campo. Para, il rigore, ragazzi, qua è un rigore non tirato male, tirato molto bene. La parata è difficilissima, è una super parata di Donna Rumma che va a prenderla. Purtroppo poi Luiz Alberto è più scaltro di altri, lì potevamo fare sicuramente un po' meglio in termini di recupero palla. Non può nulla sulla ribattuta e poi ha dato sicurezza al reparto, ha smanacciato su un colpo di testa, su un calcio d'angolo. Il rigore parato è straordinario, purtroppo non decisivo perché hanno segnato, ma alla fine abbiamo vinto chi se ne frega. Sette, sette a Gigio, Donna Rumma, sette Gigio. E poi Calabria, Calabria al primo tempo fatica, loro venivano sempre lì, Salemanches non l'ha aiutato. Tant'è che lui poi al termine della partita denuncia anche ai microfoni che qualcosa bisogna fare. Nel secondo tempo meglio, in generale il reparto, lui comunque ha corso, ha sacrificato, ha fatto anche la fascia. Spesso era anche un po' solo con Marusic, gli do un 6 e mezzo, proprio perché quando loro venivano giù non era responsabilità sua. Comunque, grande Calabria. Calulu. Calulu ha fatto un paio di anticipi ottimi, ha fatto anche una scorribanda in attacco, ha dato una palla interessantissima. Lui è uno che ha anche i piedi buoni. E' stato sfortunato sul calcio di rigore. Forse un po' troppo esuberante fisicamente lì, un po' in cauto, però davvero c'è tanta sfortuna. E poi non è il calcio di rigore. Il VAR non deve richiamarlo perché non è un chiaro errore. È una cosa veniale e l'arbitro, se va a vedere, non deve dare comunque calcio di rigore. Purtroppo ingiustizia, che ha riaperto la partita, ma alla fine l'abbiamo portata a casa. E vorrei fare gestacci, non li faccio, anzi, cerchiamo di essere educativi. Forza Milan. Poi sulla loro azione del 2-2 immobile, palla bellissima di Milinkovic. Lì purtroppo scivola un po', inizialmente perde un po' il tempo, non può nulla. Però in generale gli do un 6,5. Romagnoli, attentissimo, ha pulito l'aria sulle palle alte sempre, non si è fatto superare. In anticipo ha fatto uno scontro con Morichi straordinario. Ha dato sicurezza al reparto, è quello che gli chiedevamo, da diverso tempo. Capita Romagnoli che ha retto benissimo la difesa e si becca un 7 in pagella. Voce che va, voce che prende 4. Theo Hernandez, Theo Hernandez, attentissimo dietro. Lazzari ha creato pochissimi pericoli. In generale, quando andava là davanti, quando sfonda Theo è impressionante. Turbo Hernandez, treno Hernandez, è straordinario. Portava sempre palle in avanti, sempre pericoloso. Una predominanza atletica e fisica che raramente abbiamo visto. Ricorda forse il miglior Bale del Tottenham. E poi alla fine il colpo di testa e il suo straordinario. 7,5 a Turbo Hernandez. Tonali, l'assenza di Chessy è importante, anche quella di Ben Asser. Tonali che ha fatto un lavoro di sacrificio, ha recuperato qualche palla, ha provato la verticalizzazione. Lui spesso ha questa giocata della verticalizzazione. Non ha strafatto, ma ha fatto anche un lavoro scuro. Gli do a 6. 6 e io temevo molto il centrocampo con l'assenza di Chessy. Comunque, bene Tonali 6. Voglio dare un 6,5 a Krunic. Tanto bistrattato anche da me, perché faceva male. Ieri ha fatto cose buone. Seppur ritengo sempre che lui in un centrocampo a 2 faccia troppa fatica. Però il 6,5 è, secondo me, meritato. Celanoglu è un altro che ieri era leader tecnico con Teo Hernandez del Milan. Un leader del Milan, più ancora di Teo Hernandez, perché ricopre un ruolo diverso. Ha trasformato con freddezza il calcio di rigore. Ha attaccato, ha provato a recuperare palla. Ha dato tra le linee davvero pericolosità, portando avanti dei palloni che poi magari in certe occasioni altri non hanno gestito bene. Ha corso da matti e ha fatto un lavoro di quantità e qualità. 7,5 anche a Celanoglu. Sanemakers nel primo tempo ha avuto delle palle buone, le ha gestite male al limite dell'area. E purtroppo loro dalla destra venivano giù spesso e volentieri. Ha coperto poco Calabria e ha avuto poi un contropiede con una palla che poteva poi rendersi molto più pericolosa. Ha gestito anche quello male. Non mi è piaciuto 5,5 in pagella. Ci sta, tant'è che poi verrà sostituito. Rebic. Rebic ha fatto il gol. Bello. Ha preso la posizione, ha staccato molto bene. Rebic si è procurato il calcio di rigore. Quindi c'è il suo zampino. È il primo gol stagionale ma c'è lo zampino anche sul calcio di rigore. Poi ha avuto una palla d'oro con una diagonale di sinistra e la parata e la palla fuori in precedenza un miracolo di Reina. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Ha corso, ha combattuto. Rebic versione che ci ricordiamo. Per il fatto che ha procurato il rigore e ha preso anche gol, gli do 7,5 in pacella. Leao non bene. Ha avuto una palla d'oro che poteva dare Rebic. Ha preferito poi tirare. Ha fatto fatica terribilmente a tenere la squadra alta. Le palle alte lui non riesce a tenerle. Ha fatto qualche sponda buona ma in generale non è Ibrahimovic e si vede. Ha corso, ha provato, questa volta un po' più di impegno. Però la resa non è stata buona, ha sostituito al minuto 78. Sono pagelle vere quindi mi duele dargli 5 in pagella. È entrato poi Castiglieco, gli diamo 6. È entrato Aug e 6,5 meglio delle scorse partite. Sul binario di sinistra Conteio Hernandez ha creato dei pericoli. È entrato Dallò senza voto, Maldini senza voto e poi Pioli. Pioli gli do un otto in pagella, secondo me è meritatissimo vista l'emergenza. Avevamo fuori Chiaer e suo naturale sostituto che è Gabbia. Avevamo fuori Chessi e anche Benester, quindi il centrocampo titolare. Avevamo fuori Ibrahimovic. Ragazzi, ha messo in campo una squadra che meglio di così non poteva fare. Soprattutto mi è piaciuto come con il Sassuolo. Siamo partiti forti, li aggredivamo alti. Pressing alto, pressing organico, pressing armonico. Poi un po' la partita l'ha rovinata quel rigore che è stato dato a loro che obiettivamente è troppo, troppo, troppo fiscale. Però poi abbiamo retto, abbiamo messo cuore, abbiamo messo anima, ha fatto i cambi alla fine. Alla fine la squadra ci ha provato. Ci ha provato a differenza di Nzaghi che ha tolto poi Milinkovic, immobile. E lì la squadra della Lazio si è abbassata molto. Pioli ha avuto coraggio e il coraggio è stato premiato. L'abbiamo vinta. Voglio dargli otto. Otto all'insegna anche di questo 2020 che porta la sua firma, non solo la sua firma. Quindi ricapitolo. Vi do l'MVP e non solo. Sette Donnarumma, sei e mezzo Calabria. Così come Caluru, sette Romagnoli, sette e mezzo Teo. Sei Tonali, Krunic sei e mezzo, Cialanoglu sette e mezzo, Salemakers cinque e mezzo, Rebic sette e mezzo. Leao cinque, sei Castieco, sei e mezzo Auge, senza voto Dallò e Maldini. Pioli otto. Quindi l'MVP dovrebbe essere lui, ma tendenzialmente è un calciatore. Abbiamo tre sette e mezzo, cioè Teo, Cialanoglu e Salemakers, scusate e Rebic. Tutti e tre hanno segnato. Faccio fatica a scegliere. Faccio fatica a scegliere. Ultimamente lo sto dando spesso a Teo Hernandez. Ha fatto il gol vittoria a lui. Faccio fatica a sceglierlo. Faccio fatica a sceglierlo. Rebic è entrato in due gol. Teo Hernandez. Lo do ancora a Teo Hernandez. Teo Turbo Hernandez è il mio MVP. Molto sofferto. Il vostro migliore in campo è chi è? Scrivetemelo qui sotto. Se siete felici dimostratemelo nei commenti. Ma lasciate anche un like. E scrivetevi se non l'avete ancora fatto qui. Sulla banderina rossonera. Siamo sempre con voi. Siamo primi in classifica. Guardate la classifica. Ce l'avete ben memorizzata in testa. Ed è un turno che alla fine a noi è stato favorevole. L'abbiamo allungato sulla Juve. Sulla Atalanta. Su Napoli. E la classifica è splendida. È meritatissima. Dovrebbe essere anche migliore. Perché senza tutti questi infortuni avremo la vittoria col Parma. Avremo anche la vittoria con il Genova. Ma fa niente. Siamo primi in classifica. Gli altri. La seconda squadra di Milano non ci ha sorpassato. Ed è bellissimo. Godiamocela. Io sono strafelice. Ripeto. Strafelice. Siamo primi. Ce lo meritiamo. Forza Milan. Buon Natale rossoneri. E andiamo.